Cosplay Cosplay è una parola formata dalla fusione delle parole inglesi Costume, Costume e Play, Gioco e Interpretazione che indica la pratica di indossare un costume che rappresenta un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e interpretarlo in modo di agire Immaginate se gli elevatori appassionati di Polli fossero cosplayer e alcuni modelli che abbiamo trovato su internet Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!